Cavalli otto, uomini quaranta e zero dignità. In feti di vagoni in viaggio per l'Europa, donne, bambini e uomini, verso orrende stazioni di soli arrivi senza alcun ritorno. Affetti smembrati, pigiami a righe e freddo, e filo spinato a dividere l'orrore dall'indifferenza, e l'acre fumo dei forni crematori a porre fine a stenti e sofferenze. Immagini di morte, ricordi lancinanti, memoria dolorosa, da mantenere viva come una fiamma eterna. Monito severo perché non accada più. Perché non accada più. Non accada più. Non accada più. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti